Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi c'è qua il Diz e Giovanni Vi ricordate che l'altra volta avevo promesso che facevamo degli squishy pop-it con questi? Bene, li abbiamo stampati pure Giovanni ha la macchinina Per prima cosa inizieremo a colorare Iniziamo a colorare io ho 3.000 penne Dettagli Ragazzi guardate che penne ha fatto un po' più verde 3.000 Allora iniziamo a colorare 2.000 penne 2.000 penne 3.000 penne 3.000 penne 3.000 penne 3.000 penne 3.000 penne Quindi iniziamo a colorarla Iniziamo! C'è la macchinina ragazzi Sì perché questa qua è già sempre grata tipo 3 anni quindi Adios! 3.000 penne 3.000 penne 3.000 penne 4.000 penne 4.000 penne 5.000 penne Ci stiamo per finire questo momento ragazzi Io sto per l'inizio Io sto per l'inizio Mentre il porco Devo fare questo pallino E poi devo fare questa parte qui Ce la possiamo fare ragazzi Ce la possiamo fare Ora piccolicini Scacciamo Questo qua comunque è il nostro risultato Il mio è molto colorato E anche il mio Il mio è il primo sì poi il secondo Ma perché non è quanto colorante il secondo? Così allora Scacciamo Qua abbiamo uno scotch Ragazzi io ho finito le mie macchinine Ragazzi noi ancora no? Ancora siamo indietro yeah Tu sei al primo? No secondo Siccome i scotch erano due Io da di sto dovevamo fare lo stesso scotch Quindi uno all'uno Ogni volta Ora visto che Giovanni è finito Possiamo farlo Ecco fa No mamma Adelisca Ma sei combinato Niente si era impiccicato Il mio posto dove non si doveva appiccicare Ora i miei cuoricini Andremo a tagliare Abbiamo scotchato tutti i miei disegni Ci dovevano essere tre anni Per i dettagli E ora andremo a ritagliare con le mie forbici E anche quelle Guardate le mie Quante sono le mie Non c'è Ma non c'è Ma è vero Sì Guarda è vomito Ma è vero Ma è vero Si ma con uno spinto Ma è vero E ti dici Scusate Ok ragazzi Non lo state mai Passate fuori Perché sono veramente per i prossimi video Iniziamo Ho molta esperienza a casa mia Iniziamo Allora comunque ora andiamo a chiuderlo, poi lasciamo la parte aperta per andare a mettere il cosino il cosino ok, abbiamo il nostro scotch ovunque io ho lasciato la parte del... cioè la parte del sedere ecco esatto libera per poi metterlo sotto della macchina prendiamo un pozzettino e andiamo ad infilare andiamo a infilarlo andiamo a infilarlo forse è la parte del sederino eh, l'ho preso questo è un po' banale così soffio super soffice a questo bovattino devo fare intorno anche nelle gambe eh, ragazzi, è interessante i gambe si chiamano la faremo? no la faremo sovvivendo esatto già si sta formando io ragazzi... forse ho fatto una parte... guarda, guarda, guarda non lo so io c'è però sì, lo so adesso non chiusa allora ragazzi, come va la testulina? ok, forse ci sto riuscendo io perché la testulina è un po' difficile non mi dite ok, i miei cuiricini io ho finito nel frattempo scoccio io ho finito la ultima parte l'ultimo pezzo faccio la parte il riuscino ho fatto ok ho chiuso bene, i miei cuiricini questo qua è il risultato questo qua è il muscolo però questi qua sono tipo giganti 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 guardate, in questa zampietta non c'è menuta bene una volta così non volo ah, vediamo? non c'è venuta qua bene una volta guardate ragazzi a bordo oppure al contrario cioè può volare anche così l'intento ovviamente non ha potuto non ha potuto mettere lo matto perché era impossibile penetrarla ora la pattolla che vola facciamo un cartone c'è la macchina poi la pattolla che vola e la macchina che cammina nooo e va bene i miei cuiricini se vi è piaciuto questo video lasciate tantissimi like qua iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdere nessun video che caricherò e commentate su instagram mi chiamo così o solo community quale vi è piaciuto di più fra questi sono tutti e tre bellissimi questo volo il mio però incanta tutta la persona e salutiamo a Sara Roberto e Cristella e ciao i miei cuiricini ci vediamo al prossimo video ciao ciao cuiricini ciao ciao ciao